Colossea vende la tua casa La villa si dispone su unico livello con un grande giardino di 800 metri quadrati Partiamo proprio dal giardino disposto su quattro lati La villa si dispone su quattro lati La villa si dispone su quattro lati Caratteristica che permette di dividere la villa in più unità La composizione interna prevede salone doppio, cucina a tinello, quattro camere ripostiglio e doppi servizi Ed ecco il salone La villa si dispone su quattro lati L'immobile dispone quindi di una zona living caratterizzata dagli ampi spazi e da una elevata luminosità Concludiamo il nostro tour immobiliare dalla zona notte Dove troviamo ben quattro camere, un ripostiglio e doppi servizi Vi ricordiamo che per scoprire tutti i dettagli della proposta potete consultare il link nella descrizione del video Oppure contattarci allo 06 50 91 53 70 Per vendere o comprare il tuo immobile a Roma Scegli Colossea Scegli Colossea Scegli Colossea